La mamma di Gambardella? Sì, e tu sei la mamma di Scogna Miglia? Sì. E perché sei fuori la scuola che sta chiusa dal mese di marzo? Devo dire la verità, durante il lockdown non mi è mancata l'estetista e il parrucchiere quando mi sono mancati gli scambi culturali e sociali con le mamme fuori alla scuola. E' giusto? E' brava. Tu perché sei qua? A me è mancata l'ora d'aria. In che senso? A casa non tengo una vita, tengo 41 bis. Oh, ma non sono quei compiti delle vacanze, il gruppo delle mamme. Buongiorno, sono la mamma di Sharon e Shakira. Mi potete aiutare? Le mie figlie devono fare una ricerca per la morte di quei due, come si chiamano? Leopardi o Cardellina? Leopardi e Carducci. E' la stessa cosa. Quei due chiamano l'annuncio per la commomo, la loro commomo, la commomo, la commomo, commomo, bene, non vi chiami, ah. Che ignoranza, non conosce leopardi e Carducci. Perché tu lo sai? Niente di meno, sono due famosi stilisti. Tutto a posto. Quello è lo stress della quarantena che vuoi da me. Mentre i domestici e il mio marito preparavano i bambini, io mi sono dovuta alzare a mezzogiorno per fare quelle 7-8 ore di diretta. La diretta col personal, col parrucchiere, lo shopping online. La vita è merda. Mi puoi capire, no? Più o meno, svegli alle 6, pulisci la casa, svegli i bambini che non si volevano alzare. Allora cercavo aiuto a mio marito, che potta fa capì? E' una tartaruga caponda a rirne. Allora vestivo i bambini e andavamo dalla signora a fianco, che viva Dio, teneva internet a fare i compiti. Password della scuola, codice del bambino e usciva sempre dati errati. Allora cercavo aiuto a Mr. Ashpe. E chi è? Mio marito. Tony, la password non funziona. Ashpe. Tony, il computer della signora non va bene. Ashpe. Tony, i bambini devono fare i compiti. Ashpe. Tony, ma che devo aspettare, che sono la maestra in tuo computer? Il Whatsapp della maestra. Buongiorno a tutte le mamme, signora maestra. Volevo sapere quali bambini possono aderire al progetto Caritas. Naturalmente saranno muniti di guanti e mascherine. Signora maestra, sono la mamma di Kevin Costner con gli amigli. Mi dispiace ma mio figlio non può venire, deve recuperare tutte le attività. L'equitazione, il nuoto, il tennis. Mio figlio, no perché mio figlio è un bambino molto impegnato. Maestra, sono la mamma di Checco, allora può venire mio figlio? No perché è mio figlio, ma andai non caccia a fare. Ceditore 1, ceditore 2, ceditore 1, ceditore 2.